...di lavori ad una ditta della scuola. Il sindaco Seri parlando del 2016 diceva sarà un anno scoppiettante ed in apertura di conferenza stampa questa mattina è esordito dicendo appunto promessa mantenuta. L'anno che sta per chiudersi, il primo cittadino unifano lo definisce un anno ricco di interventi, progettualità e capacità di esprimere un ruolo da protagonista della città in ogni settore, non con interventi spot, continua il sindaco, ma con progetti che stanno dentro un quadro ben definito di strategie elaborate per ogni settore. Anche il luogo scelto per questo appuntamento conclusivo ha il suo perché, il Tiravino, il locale semidistrutto dalla mano di un balordo che in una sera colpì anche la bella Napoli che però riuscì a ripartire quasi subito viste i danni limitati a differenza invece del locale scelto per la conferenza che ha potuto rialzarsi solo di recente, a meno di un mese da quell'episodio così devastante. Ogni anno io scelgo un luogo particolare per la conferenza di fine anno. Quest'anno abbiamo scelto il Tiravino perché il Tiravino insieme alla bella Napoli sono stati vittime di un atto criminoso e quando succedono queste cose bisogna dare delle risposte e la risposta l'hanno data loro stessi avendo la capacità di ripartire in pochissimo tempo. Allora un'amministrazione deve far sentire che è vicino a queste attività ma soprattutto deve dare anche un messaggio alla gente per cui ci sembrava giusto dare un segnale importante allora quale migliore occasione della conferenza di fine anno con la presenza anche di tutti i giornalisti del territorio che possono raccontare questa attenzione, questo sforzo e questa capacità di reagire che hanno avuto queste due attività. Occorrerebbe una conferenza a parte per ogni campo toccato dice il sindaco per poter essere esaustivi in ogni settore dove abbiamo conseguito risultati ma questo non è possibile. Sicurezza, ambito sociale, progetto città dei bambini i 60 chilometri di asfaltature, la fusione asete e i lavori in sui edifici pubblici come Pinacoteca e Federiciana e poi edilizia scolastica, cimiteri sono solo alcune delle voci più significative di un anno di amministrazione. Avevo definito all'inizio del 2016 che sarebbe stato un anno scopiettante a conclusione posso dire che effettivamente è stato un anno scopiettante dove abbiamo portato a termine una serie di progettualità da cui laureavamo da circa un anno e non posso non nascondere la mia grande soddisfazione perché adesso al di là della simpatia o antipatia che ci può essere nei confronti di un'amministrazione poi le cose sono oggettive è stato un anno di grandi interventi, di grande manutenzione e che ancora una volta stiamo dimostrando che le cose che dichiariamo le facciamo magari pecchiamo rispetto anche ad altri non enfatizziamo molto le cose, non le raccontiamo dieci volte però le cose le facciamo per davvero ma soprattutto una dimostrazione e qui ci tengo a sottolinearlo ci abbiamo messo del nostro e quindi la dimostrazione di una capacità di saper amministrare perché se si colgono le opportunità si riescono a trovare risorse che vengono al di fuori del bilancio comunale significa che c'è una capacità ma tra i tanti più anche qualcosa che non è andata secondo le aspettative nel bilancio conclusivo che però rimane una partita aperta per il sindaco un elemento su cui soffro su cui ho combattuto molto dove ancora dovrò combattere dove non sono soddisfatto il tema della sanità perché poi bisogna parlare di tutto su quello sicuramente faremo iniziative importanti perché una città come Fano ma non Fano come città come territorio perché poi l'utenza ha un bacino superiore ai 100.000 abitanti non può permettersi di perdere certi servizi quindi anche su quello dovremmo concentrare gli sforzi e unire le forze spero che anche altre forze politiche in certi momenti siano più vicine non ostacolino determinati percorsi due delle tre più alte cariche dello Stato nella nostra città anche questo è un evento storico